Un caffè? Volentieri. Hai mangiato o no? Io ho visto che ci sono un sacco di cose buone sul tavolo. Ho solamente il caffè americano. Noi siamo abituati a prendere il caffè velocemente e poi a scappare il caffè americano invece aveva bevuto... Che hai fatto? Questo vuol dire fuggire via subito. Speriamo che tu non... la settimana prossima. No! Mi fa, mi ha fatto sentire a mio agio da subito. Tu devi mangiare un po' di questo, un po' di... No, 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 quello, 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 quello lo mangerei. No, perché no? Perchè no? Ma un po' di vitamina sì? Tutti nell'occhio... No, 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 mangio l'ananas! Non lo mangio? Sai che per un cantante l'ananas è magico? Mmm, perché? Sgonfia le corde vocale. Se mi stai costringendo a mangiare... Sì, giuro! Sì, ma non mi puoi costringere a mangiare l'ananas, spero. Perché? Mi piace